Musica O se ne accorgono gli arbitri oppure si va, ma si va in tutti i casi Benasser sceglie di incrociare il sinistro, rischia qualcosa, ma segna il primo rigore 1-0 per il Milan Bravo, angolato, forte, deciso, anche questo Vediamo come la regge, Géraldus contro Donnarumma col destro, lo spiazza 1-1 Bene anche lui, Donnarumma è andato dall'altra parte, mentre lui ha fatto finta di aprire il rigore e ha incrociato Buona conclusione Simon Chier sceglie di piazzare un piatto abbastanza centrale, non si era mosso Chiese che è andato abbastanza bene al difensore del Milan Sì, non proprio centrale, è andata bene che non ci sia partita centrale L'ultimo respiro per l'ex difensore del Valencia che guarda Donnarumma e lo spiazza anche lui Bene, personalità, anche lui ha fatto una buona partita A parte quando da difensore centrale gli ho visto fare il sombre Ternandes con una mezza paradigna, ci va ancora una volta Il portiere perché ha capito dove Ternandes calciava ma è riuscito ad alzarla quel pochino A parte Nicola Jambor, apre ancora al sinistro, indovina l'angolo Donnarumma ma il rigore Eh sì, anche questo non molto forte ma precisissimo Apre il piatto che poi non è facile aprire col piatto e metterlo così Tocca Brian Dias il quarto rigore per il Milan Lo batte con il destro e lo batte in maniera impeccabile Parte subito senza tanti fronzoli, incrocia il pallone Piazzata molto bene, forte, questa veramente è incredibile questo calcio di rigore Giocatore dalla classe comprovata, al quale ogni tanto è mancato un po' di carattere Adesso dai 12 passi contro Donnarumma, anche questo rigore è perfetto Forse non l'ha colpita benissimo in termini di potenza però Ha spiazzato il portiere, vede che rimbalza un pochino il pallone Pinto rigore per il Milan Chiesec gli indica la parte, Cialanoglu va ancora allo stesso modo e con lo stesso epilogo Che personalità Ciala, già calciare un rigore non è semplice, calciare il secondo rigore Filippe Augusto con la rincorsa ampia, cerca lo scavetto e lo trova Quando fanno queste cose io rimango un po' scioccato perché per fare questo ci vuole tanta roba Davide Calabria, gli dà l'ok Kilmanzano Calabria contro Chiesec, spiazzato perfettamente il portiere del Rioave Calabria pensa solo ad angolarla il più possibile, non molto forte però deciso, sa dove la vuole mettere e la mette lì Lo tsunami, Gialzandala guarda Donnarumma, lo fa andare e poi lo spiazza Pazzesco anche lui, bene, tranquillo, senza problemi Piazza la palla, spiazza il portiere, molto bene, sembrano tutti... Poi si sposta, guarda il portiere, Tonali lo spiazza tenendo anche lui il piatto destro incrociato Il Milan non spaglia Bravo anche lui, spiazza il portiere, deciso Fa una mezza finta di aprire mentre poi all'ultimo chiude Rincorsa particolare di Gabriel Zigno E altro rigore per Fili Gol Pazzesco anche lui, apre bene di piatto Forza giusta, spiazza il portiere Che ha quasi vent'anni più di lui Colombo con il sinistro, calcia alto Isulta Borevkovic perché vede la possibilità di un sospiro di sollievo Crutele Il mondo dei grandi con questo ragazzo Parte il terzino del Rioave Palo, palo è fuori Ma mi sembra che c'è stato palo, ha toccato Donnarumma Gli va addosso Donnarumma e va nell'altro palo Vediamo? Mamma mia La qualificazione ora tocca Raffaele Aou Centrale, vincente Il rigore di Raffaele Aou Esatto, quando non sai cosa fare metti la centrale Alla fine è una conclusione che va sempre bene Il portiere la maggior parte delle volte si butta a destra o a sinistra Quindi, sai, è difficile che stia fermo Ti va per Chilmanzano Ivo Pinto contro Donnarumma Che la para ma fa in gollo stesso Incredibile davvero Era presa questa qua, non ha calciato bene Anzi il portiere è intuito Intuito la palla, poi apre la mano ma Gigio Donnarumma mette sopra la traversa Ha provato la direzione giusta Ha provato il tiro semplice, no? Senza esagerare, anche lui Il Rioave va alla fase a Gironi d'Europa League Chiesec va ancora più lontano dalla Ciusci Talmine, di nuovo Due errori clamorosi da parte dei due portieri Guarda Chiesec, va col sinistro Lo tira allo stesso modo e Chiesec ci arriva Poi è normale che è stato bravo il portiere a intuire Perché il rigore non era neanche malissimo Però il portiere parte prima, intuisce che vuole calciarlo Va al numero 11 del Rioave Destro contro il palo Secondo me non è mai successa una cosa del genere Nella storia del calcio Cioè questo è pazzesco Intuito Chier contro Chiesec Va Chier di potenza E lo infila Bravo, bravo Aderlan, santo Sesta volta Donnarumma la para Respinge Gigio Donnarumma Ha sbagliato un calcio di rigore Ha visto il Milan essere eliminato tante volte stasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti